In apertura il Papa si è conclusa la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che si è svolta dal 18 al 25 gennaio scorsi al centro dell'Omelia dei Vespri presieduti da Papa Francesco nella Basilica di San Paolo fuori le mura l'itinerario dei Magi. L'invito del Santo Padre è stato infatti quello di seguire la stella di Gesù. Ascoltiamo. A conclusione della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, Papa Francesco ha aperto la sua omelia durante i Vespri celebrati nella Basilica di San Paolo fuori le mura con l'auspicio di accogliere l'accorato desiderio di Gesù che ci vuole una cosa sola e con la sua grazia di camminare verso la piena unità. Al centro dell'Omelia l'itinerario dei Magi, l'invito del Papa è stato quello di seguire la stella di Gesù. In questo cammino ci aiutano i Magi. Guardiamo stasera al loro itinerario che ha tre tappe. Comincia da Oriente, passa attraverso Gerusalemme e infine raggiunge Betlemme. I Magi partono da Oriente perché da lì vedono sfontare la stella. Si mettono in viaggio da Oriente, da dove sorge la luce solare, ma vanno in cerca di una luce più grande. Questi sapienti non si accontentano delle loro conoscenze e delle loro tradizioni, ma desiderano di più. Perciò affrontano un viaggio rischioso, animati dall'inquietudine della ricerca di Dio. seguiamo anche noi la stella di Gesù. Non lasciamoci distogliere dai bagliori del mondo stelle luccicanti, ma stelle cadenti. Non seguiamo le mode del momento, meteori che si spengono. Non inseguiamo la tentazione di brillare di luce propria, di chiuderci, cioè nel nostro gruppo, e di autoconservarci. Il nostro sguardo sia fisso su Cristo, sia in cielo, sulla stella di Gesù. L'Oriente ci fa pensare anche ai cristiani, che abitano diverse regioni infalcidiate dalla guerra e dalla violenza, proseguito il Papa. Quei nostri fratelli e sorelle hanno tante sfide difficili da affrontare, eppure con la loro testimonianza ci danno speranza. Ci ricordano che la stella di Cristo risplende nelle tenebre e non tramonta che il Signore dall'alto compagna incoraggia i nostri passi. Quante volte l'orgoglio è stato il vero ostacolo alla comunione, è stato questo il monito del Papa. Abbassarsi, lasciare, semplificare, chiediamo a Dio questo coraggio, il coraggio dell'umiltà, unica via per arrivare e adorare Dio nella stessa casa, attorno allo stesso altare, ha esortato Francesco.